Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Per il suo nascimento non è venuto Non è venuto Un po' è preso, non è venuto Non è venuto La lei è morta Grazie a tutti. Grazie a tutti.